Sabato 31 maggio, domenica 1 giugno e lunedì 2 giugno presso l'area feste del Parco dello Sport di Cavriago, festa di liberazione, organizzata dal Circolo di Cavriago di Rifondazione Comunista. Tutte le sere stands gastronomici, birreria, libreria e fumetteria, banchetti di associazioni, artigianato artistico, mostre fotografiche, proiezioni video, iniziative politiche e culturali. Questi concerti, sabato 31 maggio, Irma Vep, altro e l'attesissimo le luci della centrale elettrica, copertina di blow up e disco del mese su rumore con il suo album d'esordio, canzoni da spiaggia deturpata, domenica 1 giugno, la cattiveria e Gasparazzo. Tutti i concerti sono gratuiti, inizio ore 22, festa di liberazione, sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno. Grazie.